L'arte pubblicitaria, anima del commercio moderno, è oggetto di insegnamento in numerose scuole boeme che reclutano allievi specialmente nel campo femminile. Vedendo questi disegni rapidamente abbozzati si potrebbe credere che sono abbastanza facili a farsi, eppure questa abilità può essere raggiunta soltanto con un assiduo e sistematico lavoro. Non vi è nulla di straordinario nel disegnare una ciotola e un pennello, ma per trasformare questo disegno in un cappello da signora bisogna avere un certo talento e una certa fantasia. Come si vede la carta non è sufficiente a contenere l'estro di questi allegri studenti che lavorano spesso a spese del prossimo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!